Aspettiamo questo appuntamento domenica prossima, spero che tanti salernitani possano partecipare alla strada Salerno, io ringrazio soprattutto l'associazione che ha promosso questa iniziativa e noi come Commissione Sport abbiamo anche cercato in questa manifestazione di provare a rimettere su questo discorso colpone e la federazione per fare di nuovo un incentivo allo sport, quindi domenica presso la Carnale, nella piazza dei Mitra Falla Carnale ci saranno di nuovo le federazioni che incentiveranno tanti ragazzi a fare sport.